Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di un argomento che mi hanno chiesto in molti, come archiviare barra salvare le trasmissioni precedenti, ossia le live, a loro termine su Twitch. Vi sono due modi. Il primo modo è per tutti, ma le live salvate vengono cancellate automaticamente dopo un certo numero di giorni. Il secondo metodo invece è per sempre, quindi le live restano per sempre nel vostro canale. Come fare? Allora, dal vostro canale andate su Video Producer, io clicco su Video Producer in modo da trovarmi su questa schermata, cliccate qui su questo menu ad hamburger, cliccate su preferenze canale. Ora, assicuratevi che questa voce sia attivata, ossia archivia le trasmissioni precedenti. Se siete utenti classici, le trasmissioni restano salvate per 14 giorni. Se invece siete utenti Turbo, Prime o Partner, 60 giorni. Ma vi è un piccolo trucco per salvarle per sempre. Quindi andate su Video Producer, di nuovo, per visualizzare tutte le vostre trasmissioni. Quindi se avete attivato archivia trasmissioni, le visualizzerete qui. Ora, come potete vedere, questa trasmissione che ho fatto poco tempo fa come prova per questo tutorial, ha il tasto in evidenza, a differenza delle altre che sono già state evidenziate. Evidenziando una trasmissione, questa resterà nel vostro canale per sempre. Quindi cliccate su in evidenza e qui potete decidere la porzione del video da conservare. Ovviamente potete salvare anche tutto il video, se vi interessa, o solo una parte. Quindi selezionate la parte che vi interessa. Date un nome al vostro video, io ad esempio lo chiamo Test, e cliccate su Pubblica contenuti in evidenza. Ora, nel giro di pochi minuti, a seconda ovviamente della dimensione della live, della durata, eccetera, il video comparirà qui e sarà salvato per sempre. Potrete poi cancellarne la copia, cioè questa qui la potete cancellare al termine dell'elaborazione. Naturalmente, come ogni live, avete la possibilità di scegliere un'immagine come anteprima, la descrizione, la lingua, il gioco, i tag, eccetera, eccetera. Quindi una volta che questa procedura è finita, cancellate la copia e conservate solo questa. In questo modo, la live resta per sempre. Quindi, ricapitolando, per salvare una live al termine, dovete andare nelle impostazioni del canale e attivare archivi a trasmissioni precedenti. Quindi su Video Producer, cliccate qui, andate su Preferenze Canale e spuntate questa voce. Per tenere le live salvate a vita sul canale, una volta che le avete, diciamo, qui, quindi ecco, come in questo caso, terminate la vostra live ed avete questa, diciamo, questa live, cliccate su In evidenza e poi, diciamo, compilate i vari campi, scegliete la porzione del video da salvare per avviare l'elaborazione. Una volta finita, potete cancellare questa live e conservare solo questa che resterà per sempre nel vostro canale.